Allora, buongiorno a tutti. Oggi affronteremo il primo argomento relativo a questo corso che è l'approccio orientato agli oggetti, infatti il titolo si chiama programmazione a oggetti. Il primo aspetto che dobbiamo capire è come passiamo da un approccio orientato alla programmazione procedurale a un approccio orientato agli oggetti, ovvero a capire quali sono le motivazioni, le caratteristiche fondamentali del paradigma orientato agli oggetti. Ci sono diversi paradigmi di programmazione. Il primo, quello forse più diffuso e conosciuto, è quello procedurale di tanti linguaggi, quali ad esempio C o Pascal. L'approccio orientato agli oggetti, che è comune a molti linguaggi moderni, quindi C++, Java, C Sharp, parte anche Python o JavaScript. L'approccio funzionale, che è comune a linguaggi quali l'ISP, Pascal, ma anche SQL, che qualcuno studia in parallelo nel corso di base di dati, e paradigma della programmazione logica, in cui si mettono delle asserzioni e si cerca di dimostrare qualche conseguenza. Storicamente i primi linguaggi di programmazione, quelli ad alto livello almeno, quindi parliamo di Fortran, COBOL, degli anni 60, erano linguaggi procedurali e avevano sostanzialmente, proprio perché erano di alto livello, la capacità di definire variabili e definire dati strutturati, quindi strutture dati. Successivamente, verso la fine degli anni 60, prima degli anni 70, sono emersi la seconda generazione di linguaggi procedurali di alto livello, il C è l'esempio principale, ma c'è stato anche il Pascal, l'Algol 68, che hanno introdotto quella che è la programmazione strutturata, ovvero i costrutti di IF, di ciclo, definiti in maniera a blocchi. E hanno anche definito quelli che sono i tipi dei dati in maniera molto più strutturata, con conversioni e controlli sulla compatibilità dei tipi tra le variabili quando vengono trattate assieme. Successivamente, fin gli anni 70 e primi anni 80, ci sono stati alcuni linguaggi di alto livello procedurali, ADA e Modula 2 sono quelli più noti, in cui sono stati definiti i concetti di moduli, di programmazione concorrente e l'idea delle eccezioni. In parallelo a questo flusso principale, relativo ai linguaggi procedurali, c'è stato anche una serie di altri linguaggi orientati agli oggetti. Il primo è il Simula 67, come suggerisce il nome, è stato sviluppato nel 1967 ed è stato il primo linguaggio di programmazione che effettivamente avesse i principali costrutti che oggi assegniamo ai linguaggi di programmazione ad oggetti. Successivamente c'è stato un linguaggio di grosso successo che si chiamava Smalltalk, che è stato sviluppato all'inizio degli anni 70 ed è stato molto utilizzato. Smalltalk aveva alcune limitazioni, soprattutto in termini di efficienza, ma ha dato la possibilità di diffondere questa idea, questo approccio alla programmazione orientata agli oggetti. Infine negli anni 80 sono emersi innanzitutto il C++ e anche un altro paio di linguaggi, quindi Eiffel e ADA 96, 97, eccetera, quindi una serie di evoluzioni del linguaggio ADA, che inizialmente era un linguaggio procedurale. E negli anni 90 è emersa una seconda generazione di linguaggi orientati agli oggetti, cui Java è quello principale, ma abbiamo anche altri linguaggi, come ad esempio Python e poi successivamente, verso fine degli anni 90, C Sharp, che è un altro linguaggio di programmazione agli oggetti abbastanza diffuso. Che cosa vuol dire sviluppare in maniera procedurale piuttosto che sviluppare in maniera orientata agli oggetti? Cerchiamo di capirlo con un esempio molto semplice. Immaginiamo la ricevuta di un registratore di cassa. Abbiamo degli input che sono i codici dei prodotti, so, 13, 57, 123. A un certo punto terminiamo l'elenco dei prodotti da inserire nel nostro scontrino e il nostro registratore di cassa stampa una ricevuta in cui sono elencati i prodotti, i loro prezzi, il numero di prodotti e il totale. Ecco, come realizzereste questo programma in C, provate a fermarvi e a ragionare in termini di quali strutture dati, quali funzioni sono necessarie per realizzare un programma che fa queste cose, leggendo ad esempio quei codici di prodotto direttamente dalla tastiera, in linguaggio C. Io provo a fermarmi un attimo e a darvi la possibilità di ragionare. Ecco, ora se avete messo in pausa potete riprendere e vedere assieme quella che è una possibile soluzione procedurale in C e poi capire come si confronta con una soluzione orientata invece agli oggetti. Allora, questa è una possibile soluzione. Noi abbiamo qua su un array di numeri floating point che comprende i nomi accompagnato a un array di stringhe che comprende invece i nomi dei prodotti. Immaginiamo che il codice del prodotto venga considerato uguale all'indice all'interno di questo array, per semplicità. E poi abbiamo un array di interi che contiene i codici dei prodotti che verranno inseriti nella ricevuta. E abbiamo un numero di elementi che sono gli item, i prodotti inseriti all'interno della ricevuta. Che cosa ci serve? Allora, ci serve sostanzialmente un metodo, una funzione per poter aggiungere dei codici di prodotto all'interno della ricevuta, un metodo per sostanzialmente stampare la ricevuta alla fine. Non dimentichiamoci un metodo per inizializzare il tutto, quindi tutte queste strutture dati devono essere inizializzate, non so, con numeri casuali per un test oppure a partire da un file che contiene il listino prodotti. E una funzione che ci permette di andare a leggere da tastiera, se vogliamo fare un test, piuttosto che da un lettore di codice a barre, i codici dei prodotti. E la funzione main che inizializza e poi fa un ciclo in cui continua a leggere i codici finché non arriva il codice che rappresenta la fine della ricevuta, aggiungendo tutti i codici e una volta che è stato raggiunto l'ultimo prodotto stampa lo scontrino, che è sostanzialmente quello che vediamo qua. A questo punto, quali sono gli aspetti che limitano questa soluzione? Allora, ce ne sono diversi. Innanzitutto, esiste un qualche legame tra questi due array, i prezzi e i nomi? Sostanzialmente no. Siamo noi che li mettiamo in parallelo, siamo noi che mettiamo allo stesso dimensione, ma sostanzialmente non c'è nessuna garanzia. C'è un legame tra il numero di elementi e l'array ricevute? Di nuovo no. Chi è che può operare su questa coppia di informazioni? Sostanzialmente la funzione add, la funzione print, ma anche la funzione init. Quindi queste tre funzioni operano su questa coppia di dati. Prezzi e nomi sì, vengono utilizzati, ma sostanzialmente sono in sola lettura. Per cui la ricevuta, il numero di elementi e le funzioni add, print e init sono fortemente legate tra di loro. Ma nel codice noi non vediamo questo legame, non c'è nessun aspetto sintattico del linguaggio che ci permette di farli stare assieme come un'unica unità. Se andiamo a vedere la funzione main, viene chiamato init all'inizio, ma se immaginiamo di avere un programma molto grande, qual è la garanzia che la funzione init venga chiamata? Se qualcuno ha scritto tutte queste funzioni e questi due dati e qualcun altro li utilizza, come facciamo ad essere sicuri che l'inizializzazione venga fatta correttamente prima di poter utilizzare il resto del codice? Quindi queste sono tutta una serie di dettagli che limitano e sostanzialmente sono causa di possibili errori quando noi andiamo a scrivere un programma utilizzando un approccio procedurale. Se vogliamo andare a strutturare, a descrivere il nostro programma con un diagramma, noi possiamo pensare di andare a indicare le funzioni, così in viola, con degli archi che indicano la chiamata da una funzione all'altra e i dati che noi abbiamo a disposizione all'interno del nostro programma, quindi prezzi e nomi, ricevuta e numero di item, che sono quelli a cui accedono le varie funzioni per leggere o scrivere i dati stessi. Qui non abbiamo chiaramente nessun legame che ci metta assieme queste tre funzioni e questi due dati. Un approccio orientato agli oggetti sostanzialmente che cosa fa? Ci permette di andare a aggiungere un oggetto che è una nuova costrutta a livello di linguaggio che permette di mettere assieme le funzioni e i dati che sono legati tra di loro. Per cui un oggetto è un'entità in cui abbiamo una interfaccia che è data dall'insieme di funzioni che fanno parte di questo oggetto e da dei dati che sono quelli su cui queste funzioni possono operare. L'aspetto fondamentale degli oggetti è che gli oggetti permettono di nascondere i dati. Quindi l'information ID è una caratteristica fondamentale degli oggetti che sostanzialmente ci dice che i dati contenuti all'interno di un oggetto possono essere visti e modificati esclusivamente dalle funzioni che stanno dentro l'oggetto, quindi dalle funzioni che rappresentano l'interfaccia. Per cui non è possibile in un qualunque altro momento aggiungere una nuova funzione che vada a accedere a questi dati scavalcando quelle tre funzioni principali, add, print e init, che invece sono utili per gestire i dati. Quindi l'information ID e questa definizione di un modulo che è l'oggetto sono due caratteristiche fondamentali. Ovviamente noi possiamo andare a identificare tanti blocchi di dati correlati, per cui oltre alla ricevuta del numero di elementi e con quei tre metodi noi possiamo avere anche un altro oggetto che raggruppa il listino prezzi. E possiamo anche andare oltre, possiamo andare a identificare degli elementi semanticamente consistenti all'interno del nostro programma, che corrispondano a concetti del nostro problema di partenza. Quindi quando noi andiamo a discutere con un commerciante di ricevute e di scontrini, ovviamente parleremo di prodotti, listino prodotti, di ricevute, di righe o elementi che stanno dentro lo scontrino. Per cui gli elementi dello scontrino che abbiamo qui i prodotti, che in realtà non sono semplicemente in un unico array, ma sono costituiti da due dati il prezzo e il nome del prodotto. Quindi l'idea di avere un oggetto che rappresenta questa copia di dati e li mantenga assieme di nuovo ci permette di scavalcare uno dei limiti dell'approccio procedurale. Quando è l'idea? L'idea è che con un approccio orientato agli oggetti noi possiamo andare a definire degli oggetti che rappresentano delle entità, dei concetti noti e ben definiti, che quindi hanno un ruolo ben definito, all'interno di quello che è il dominio del problema. Oltre agli oggetti, nell'approccio che stiamo descrivendo, abbiamo anche delle classi. Che cosa sono le classi? L'idea è che noi possiamo avere tanti oggetti analoghi che rappresentano la stessa idea. Immaginate il prodotto. Ecco, noi non abbiamo un unico oggetto prodotto, ne abbiamo tanti. Ecco, tramite la classe noi andiamo a definire le caratteristiche, comuni di tutti gli oggetti di tipo prodotto e quindi la classe rappresenta un concetto di alto livello. Qual è il passaggio che lega una classe a un oggetto? Sostanzialmente una classe può essere istanziata andando a creare un oggetto e tutti gli oggetti istanziati a partire dalla stessa classe hanno le stesse caratteristiche. Quindi se immaginiamo la classe prodotto, la caratteristica comune di tutti i prodotti è di avere un nome e un prezzo. Le classi, inoltre, possono essere legate tra di loro. Quindi è possibile che una classe sia legata a un'altra, per cui, che so, un elemento, una riga dello scontrino, è legata a uno specifico prodotto. Un elemento, una riga, sta dentro uno scontrino. Un prodotto sta dentro il listino prodotti, il listino prezzi. Infine, nell'approccio orientato agli oggetti, le classi possono sostanzialmente ereditare l'una dall'altra. Quindi l'idea è che se io ho una classe di partenza, ne posso trovare una che è un po' più specifica, ne posso identificare una che è più specifica, che eredita la classe di partenza senza dover ridefinire tutto. e quindi senza dover fare un copia e incolla. Queste sono le caratteristiche fondamentali delle classi e nel nostro esempio specifico, quello che possiamo fare è andare a identificare, ad esempio, in base a quello che abbiamo visto prima e gli oggetti che abbiamo identificato nel nostro esempio, quattro classi diverse. Abbiamo la classe ricevuta, la classe listino prezzi, dove la classe ricevuta è legata o è collegata al listino prezzi. Quindi cambiando il listino prezzi avremo dei valori diversi all'interno della nostra ricevuta. Inoltre la ricevuta contiene diversi item o righe del nostro scontrino. Ogni elemento dello scontrino si riferisce a un prodotto e i prodotti sono contenuti all'interno del listino prezzi, la descrizione dei prodotti. Quindi vedete che noi siamo passati da una struttura molto di alto livello, molto di basso livello, molto specifica, dettagliata, con degli aspetti di basso livello, ad esempio quel max list e max receipt che possono essere definiti ma sono difficili da capire immediatamente, a una situazione molto più di alto livello che è questa in cui abbiamo le classi e sappiamo che a partire da queste classi nel nostro programma saranno presenti degli oggetti. Avremo ragionevolmente un oggetto ricevuta, uno più oggetti ricevuta, un oggetto listino prezzi e avremo tanti oggetti elemento e tanti oggetti prodotto. Quindi l'idea è che l'approccio orientato agli oggetti definisce un nuovo tipo di componente, l'oggetto e ovviamente le classiche sono la loro descrizione, e questi oggetti, questi nuovi componenti sostanzialmente mettono assieme dati e le funzioni che possono accedere a questi dati e definiscono un'interfaccia in modo tale che sia chiaro e univoco quali funzioni possono accedere a quei dati, senza che esca fuori quello che è un approccio spaghetti in cui qualunque funzione può accedere a qualunque dato e quindi in caso di malfunzionamento è difficile andare a capire cosa ha modificato quel dato nella maniera sbagliata. È possibile andare anche a identificare delle relazioni tra le classi che permettono agli oggetti di scambiarsi dei messaggi, quindi un oggetto chiede a un altro oggetto di svolgere una particolare operazione. Perché andiamo a utilizzare l'approccio orientato agli oggetti? Perché sostanzialmente oggi, nei giorni nostri, ma questo era vero anche passato, recente, i programmi stanno diventando sempre più grandi e quindi sono difficili da essere gestiti o anche compresi da una singola persona, per cui c'è la necessità di gestire progetti molto grandi e l'approccio orientato agli oggetti permette di andare a definire l'interfaccia di un oggetto senza entrare nei dettagli, quindi una persona può essere responsabile di andare a definire una classe specifica e un'altra la può utilizzare senza dover per forza conoscere i dettagli. Quindi è più facile utilizzare il codice e riutilizzarlo soprattutto e l'approccio orientato agli oggetti permette di semplificare quella che è la manutenzione del codice e la sua evoluzione. Ricordate che, lo dico una volta, ma ve lo ricorderò più volte durante queste lezioni, la gran parte delle spese per software non sono dovute al primo sviluppo del codice, ma bensì alla sua manutenzione. Quindi avere un approccio che mi permette di ridurre la manutenzione sicuramente ci dà un grosso vantaggio. L'idea semplice è che io uso un approccio ingegneristico in cui, quando ho un problema molto grande, identifico dei componenti. Definisco come questi componenti possono interagire e poi le interfacce tra di loro, cercando di minimizzare le intersezioni o le relazioni tra i componenti in modo che ogni componente possa essere sviluppato e manutenuto in maniera indipendente. Sostanzialmente, se noi andiamo a confrontare un approccio procedurale contro un approccio orientato agli oggetti, nell'approccio procedurale abbiamo funzioni che chiamano altre funzioni e dei dati che sono manipolati da varie funzioni o sottoprogrammi. In un approccio orientato agli oggetti, noi abbiamo diversi oggetti che vengono richiamati dal programma principale e che contengono i dati, operano sui propri dati ed eventualmente scambiano messaggi con altri oggetti. Quindi è un'organizzazione molto più strutturata e molto più facile da comprendere. Abbiamo detto che è fondamentale capire come gli oggetti e le classi interagiscono tra di loro e questo viene definito tramite l'interfaccia. Quindi quando vado a definire una classe, definisco l'interfaccia che è tutto un insieme di funzioni che potranno andare a operare sugli oggetti. E quindi ogni oggetto è responsabile dei propri dati e i cui propri dati possono essere utilizzati esclusivamente dalle funzioni dell'oggetto stesso. Quindi l'idea è che gli oggetti incapsulano uno stato, un insieme di dati, e dispongono un'interfaccia standard. Ovviamente questo incapsulamento e l'ascondere alle informazioni, l'information ID in cui dicevamo prima, sono due aspetti fondamentali che caratterizzano come gli oggetti funzionano. Per cui abbiamo una serie di funzioni, che nel contesto orientato agli oggetti si chiamano metodi, che definiscono l'interfaccia e che danno modo a tutto il resto del programma, quindi gli altri oggetti, di accedere all'oggetto. Nessuno può accedere direttamente ai dati interni dell'oggetto se non i metodi dell'oggetto stesso, che sono quelli di interfaccia, oppure ovviamente possono anche definire altri metodi interni per andare a svolgere compiti più specifici. Quindi l'idea è che l'incapsulamento permette di semplificare l'accesso e permette di usare un oggetto senza conoscere gli aspetti interni, ma conoscendone semplicemente l'interfaccia, cioè l'insieme di metodi, le funzioni che io posso chiamare. E soprattutto, se guardiamo l'incapsulamento dall'altro punto di vista, quindi dall'interno piuttosto che dall'esterno, nel momento in cui io devo andare a costruire un oggetto, quindi definire la classe che descrive l'oggetto, io una volta che ho definito l'interfaccia non mi devo preoccupare di nulla, mi posso concentrare sulla parte interna, la posso modificare, cambiare, e questo non andrà a interferire in alcun modo con quelli che sono invece i vari utilizzatori. Questo mi porta anche ad altri vantaggi che sono sostanzialmente la facilità di evoluzione, per cui io posso modificare tranquillamente, in qualunque istante, un oggetto, i suoi aspetti interni, purché io mantenga inalterata quella che è l'interfaccia. E soprattutto, avendo definito la classe una volta sola, i dati, che quindi sono interni all'oggetto, sono utilizzati soltanto dalle funzioni dell'oggetto definiti nella classe stessa. E quindi se io devo andare a fare una modifica, la faccio esclusivamente in una classe. E non ho la necessità di andare a cercare, all'interno di un programma, magari di grandi dimensioni, tutte le funzioni che potrebbero accedere, in qualche modo, a un dato. Sono tutte raccolte lì, sono dentro la classe, e quindi faranno parte poi dell'oggetto istanziato a partire dalla classe. Storicamente ci sono state varie evoluzioni della costruzione dei linguaggi ad oggetti. I primi erano semplicemente object-based, in cui io costruisco un oggetto come un insieme di funzioni e dati correlati. Non era ancora presente il concetto di classe. Classe come definizione unica di tutti gli oggetti che condividono sostanzialmente la stessa struttura. Il passo successivo è stato appunto quello di andare a definire delle classi e quindi definire quelle che sono tutte le caratteristiche comuni. Quindi disaccoppiando quello che è un concetto di alto livello, definito in fase di progettazione, da quello che è un concetto più di basso livello e che ha la sua ragione di esistenza durante l'esecuzione del programma. Un passo successivo è quello di andare verso quelli che sono i linguaggi propriamente detti orientati agli oggetti in cui gli oggetti, oltre ad appartenere a una classe, hanno una caratteristica in più. Le classi possono ereditare l'una dall'altra, andando a definire tutta una serie di proprietà aggiuntive che possono essere decisamente utili. Un sotto insieme dei linguaggi orientati agli oggetti è quello che si chiama linguaggi agli oggetti fortemente tipizzati, dove i tipi dei dati, delle variabili, sono definiti in maniera molto precisa e il compilatore è in grado di fare tutta una serie di controlli sulla coerenza delle operazioni che faccio su questi dati. Voi avete presente C, in cui ogni variabile ha un tipo ben definito, quindi il C è un linguaggio strongly typed, non è orientato agli oggetti, ma è strongly typed. Ci sono altri linguaggi, ad esempio Python, che non sono strongly typed, in cui io vado a definire una variabile, ma non il suo tipo, per cui la variabile può sostanzialmente assumere valori di qualunque tipo ed eventualmente i valori all'interno di quella variabile possono essere prima di un tipo e poi dell'altro. Questo sostanzialmente impedisce a un compilatore di fare dei controlli di coerenza e per cui fa emergere eventuali inconsistenze non in fase di compilazione, ma bensì in fase di esecuzione. Per cui, in generale, linguaggi fortemente tipizzati ci danno un vantaggio in più che è quello di poter intercettare prima, già in fase di compilazione, potenziali errori che abbiamo commesso noi nella programmazione. A questo punto quello che noi dobbiamo andare a fare è cercare di capire come possiamo andare a costruire la nostra struttura di un programma. Quindi l'idea è io ho un problema, devo andare a identificare quelle che sono le classi che poi si tradurranno in codice Java o di qualunque altro linguaggio ad oggetti che permettono di risolvere il problema. Per fare questo noi andremo a utilizzare un approccio e una notazione grafica che si chiama UML ma io a questo punto mi fermo un attimo e vi lascio il tempo di guardare questa video lezione e poi vi metterò a disposizione un'altra video lezione in cui approfondiamo il tema dell'UML. Vi lascio con alcune domande innanzitutto esercizio da poter svolgere partendo da quell'esempio di output scrivete il codice C per andare a realizzare il vostro registratore di cassa. Secondo passo andate a capire quali sono le limitazioni quindi le abbiamo elencate prima ma ragionatevi sul codice che andate a scrivere voi. Immaginate di non scrivere soltanto voi il codice di dividere i compiti con qualcun altro come è possibile andare a garantire che ci sia poi una coerenza tra quanto sviluppato da più persone e infine provate a ragionare su quelli che invece sono i concetti non del programma di basso livello che avete scritto ma bensì più di alto livello quello che si chiama il dominio del problema. Come dovreste descrivere in linguaggio naturale il vostro programma che svolge il lavoro del registratore di cassa? Quali sono i concetti che utilizzate in quel contesto? Ecco ragionate su questo e poi noi cercheremo di capire assieme come possiamo utilizzare l'approccio orientato agli oggetti per sfruttare queste caratteristiche.